ciao bellezza e ben ritrovati sul canale benvenute come state un po che non mi faccio vedere però stavolta vengo con un haul questi giorni ho fatto un po di acquistini un po un po di più c'è un haul misto di tutti i tipi e colori perché a parte che c'è un periodo di black friday in questo momento ma c'è anche ciao bisogna un po di cosine di fare qualche cosa diciamo di cambiare qualche qualche cosina e poi ho trovato un po di promozioni quindi vi faccio vedere che cosa da un prezzo allora da rinomato brand dieme e detersivi non ce li ho qua però tengo a precizzare che da diemi o prezzo detersivo in polvere e quello per la lana scusate aggiustavo la telecamera non le ho mai usate le vorrei provare poi se mai vi faccio una recensione volevo provare i detersivi di dieme allora ho preso per il water profumatore mi piace moltissimo ve la consiglio ce n'è anche un altro tipo questi sono usciti da poco questo è il limone anzi le ho presi due però non capisco perché le scatole sono un po diverse c'è uno a col verde l'altro vabbè non costano tanto un euro qualcosa non arriva due euro comunque sono due due cosine così parte che vi faccio vedere almeno se riesco sì lo so che non è una cosa molto gradevole magari per qualcuno ma giusto per capire ecco com'è fatto la parte blu e quella parte che pulisce sapete che ci sono anche quei botti che li butti nella tazza ecco questo qua e quel genere di prodotto e questo è il profumatore sono saltanto di limone sono ottimi e vi devo dire che non cascano cioè nel senso che ve li trovate poi nel water e ne ho presi due cioè sono quattro pezzi vi devo dire che mi durerà a lungo credo che fino all'anno prossimo poi 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 mi sono ripresa gel doccia perché lo faccio vedere all'incontrario crede sei persa perché io l'anno scorso questo qua l'avevo già utilizzato nel periodo invernale e un gel doccia con la prugna mandorla non so che cos'altro però mi piace il profumo ve la consiglio e in questo momento di m non so se è in tutte le regioni d'italia è così ma da me a genova ci sono più di non so quanti in più di mille prodotti credo con prezzi bloccati ecco questo è uno di quei prodotti col prezzo bloccato cioè costa 89 centesimi sono presa due perché il profumo è golosissimo piace mamma mia tantissimo poi ho preso anche questo di nuovo lo già ce l'ho già in uso in bagno e sì lo so è una profumazione profumazione più o meno estiva perché tutta frutti fiori e questi frutti lemore però raga dovete provarlo anche adesso 89 centesimi credo che faccia anche di lui parte di quei prodotti col prezzo bloccato l'acqua ossigenata che ci serve in casa poi per mio marito preso il burro cacao io per lui vedo questo di balea questo è praticamente quelli classici della linea sensitive è un po più delicato un euro qualcosa due pezzi ottimo prezzo e poi la il dentifricio vi ho già detto lo vedete spesso nei prodotti finiti i dentifrici di dm anche loro prezzo bloccato non costano nemmeno euro ho preso questo qua col viola che questo sarebbe il dentifricio brillant white che fa splendere i denti e questo qua che quello sensitive per chi ha le gengive sensibile i denti sensibili ottimi 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 poi ultima cosa e vi ho detto che ho preso anche detto sì ma quelli ce li ho di là in cucina che ho già cominciato a utilizzare se come avevo visto che era uscita la collezione della essence emily imperi sono andata a vedere l'ho trovata sia dove se sia da dm per fortuna mia che il stand dm di essenzidm era ultimamente sono abbastanza messi in ordine perché ho fatto qualche recensione ho detto che nel mio quartiere i stand capitolo diciamo make up adm facevano pia pena e piangere perché in estate era erano vuoti già non trovavi nulla e probabilmente qualcuno l'assuma avrà sentito e oggi era abbastanza in ordine lo stand però siccome ero entrata già da ovviese avevo provato un pochino la collezione non è che non mi ha tirata mi ha tirata tutta perché molto carina però la vedo un po dedicata alle ragazze più giovani io ormai non ho più vent'anni 16 18 è una collezione per i miei gusti e come la vedo dedicata di più alle giovani alle ragazze che sono alle prime armi bellissima bei colori prodotti carini l'unica cosa che ho preso che mi ha incuriosito il mascara volevo vedere com'è perché ultimamente sto utilizzando un mascara che mi piace assai non pensavo che fosse così buono tra l'altro ce l'ho indosso comunque il mio trucco è da stamattina questo qua però volevo vedere anche questo come perché è un mascara un volume estremo in curvatura già praticamente due opzioni cioè nel senso fa due cose di solito io per ottenere il volume faccio con un altro e in curvatura con l'altro quello che lo avete appena visto quello verde color line che colore fa solo in curvatura ecco questo a due cose fa anche il volume quello che ho bisogno sulle mie ciglia sono tutte delle cose sia in curvatura che volume per io le ciglia sottilissime e quindi ho preso lui non ha un prezzo alto a 3 euro 89 credo quindi vale la pena provare e poi mi ha incuriosito una cosa e qui ragazzi ho fatto la pazia delle pazzie perché non hanno un costo più basso ho preso tre mascara tra quale uno è di color blu di Laila Laila Cosmetics è un brand che in genere tanti anni fa faceva make up è difficile da trovare almeno nella mia città però ho voluto prendere e provare a vedere ho preso questo blu che ora vediamo com'è perché non ho guardato il colore sono molto cicciotosi il costo di questo mascare di 14 euro 90 cioè giusto per farvi sì è quel blu che mi sembra anche eccolo ballo cicciotoso questo a uno scovolino proprio di volume volume e non avevo un mascara blu mi serviva poi siccome il mascara waterproof non ne ho più in casa perché quello di Essence mi si è seccato perché dopo un po' si secca ho preso anche uno waterproof vediamolo queste due le apro perché io eccolo classico scovolino che lo conosco da una vita e poi ne ho preso anche un altro ma questo non ve lo apro che è extreme black fate voi il calcolo giusto per capirci ok queste le buttiamo qua perché entrano subito in uso perché a prendoli e le altre le mettiamo di scorta di riserva poi oggi sono andata al mercatino rionale e dal mio amico ho preso due sieri praticamente due confezioni di un siero o un siero per il viso che è un siero con attivo puro bava di lumaca so che alcuni mi daranno addosso che non usano ma io la uso la bava di lumaca quando lo trovo nei cosmesi non ho questo genere di problema perché so che perché quello è in ignoranza delle persone non capiscono che povere poverini poveri animaletti non sono maltrattati però vabbè è un siero con effetto immediato che riduce le rughe attenua le macchie scure delle rughe non mi importa tanto che non ne ho troppe ma mi interessa questa roba qui di attenuare le macchie perché sapete che ho sempre questo problema di schiarire lo schiarite parecchio quest'anno non ho preso tanto sole non sono stata al mare quindi non non ho fatto il danno ancora di più nel senso di scurirle le schiarite qua dice che si può usare sia mattino e sera e io ne ho presi e potrebbe essere utilizzato anche come una base make up ecco questo non lo sapevo sono 30 ml di prodotto il brand e farmacomplex è un brand italiano chi lo fa non si fa a roma ma credo che si troverà anche nei negozi ed è fatto così è un siero vedete se si riesce a vedere perché la boccetta è abbastanza scuretta lattiginoso quindi qua ne basterà poco prodotto con pipeta vetro mio amico me le ha fatte lui le aveva in in prezzo di 5 80 qualcosa del genere io le ho pagate 450 ha fatto un po di sconto ne ho presi due perché dopo i 40 anni vi ho anche già detto non lo so se non ve lo ha detto mo ve lo dico ora pensiamo di più alla nostra skin che è cioè a guardare di più la parte di pelle ecco dati gotà e poi c'è anche altre cose qui e chiedi allora qui non vi faccio vedere perché ho dei prodotti per capelli professionali che devo fare un lavoretto un po più lungo cambierò il calore di capello adesso se si intravede è un castano mugano io vorrei diventare un copper e quindi dovrei schiarire e poi fare la tinta e quindi li sono passata da un negozio di fiducia che ho qua nel quartiere che vende roba professionale per i saloni di parrucchieri e mi sono fatta consigliare dalla signora perché la conosco da un bel po di anni e mi ha praticamente indicato e ho acquistato i prodotti per non danneggiare il capello perché sapete che quando si fa la schiaritura la decolorazione per togliere il scuro per fare un po più chiari di solito le polveri decoloranti tendono a seccare o asciuppare il capello se come io fra un mezzo ma nemmeno un mezzetto già tipo all'inizio di dicembre ho l'intenzione di tagliare i capelli cioè dare di nuovo un po di forma accorciare un po i capelli c'è tagliare un po le punte sfila sfilarli allora ho detto è il momento di fare questo passaggio perché faccio sto cambio di colore giusto per farvi capire perché voglio farli un po più caldi un po più chiari perché siamo nell'inverno e non mi ci vedo così scuretta vuole anche fare un cambio e quindi faccio questo genere di di lavoretto a casa mia perché non vado dal parrucchiere non per il costo perché anche lì quella roba lì non è che mi ha costato due lire però mi fido di più su di me almeno se faccio un danno lo faccio io con le mie mani e non vado di incolpare un altro parrucchiere ecco allora poi da cadis cadis che come vedete voi è l'ex lila poi che si è trasformato in cadis hanno questa roba qua in un promo loro nel negozio almeno nel mio non è il mio è quello del quartiere hanno dei cesti dove hanno delle promozioni bisogna che vi guardate nel negozio a vedere perché se non ti guardi non li vedi e questi qua erano 99 centismi e sono i mangio odori per il frigo che sono buoni e ne ho approfittato servono ok poi mi hanno dato il blocchetto con le promozioni se andate non lo so quando sarà valido a sarà valido dal 20 di novembre fino al 31 di dicembre quindi questo è per periodo natalizio qui le promo non l'ho ancora guardato pensate e poi d'odoranti per l'ascelle sapete non mi posso più separare di questi qua in questo momento sto usando nivea ma non lo so nivea che cosa sta combinando perché ultimamente ha un po di nuovo alterato le formule questi mi piacciono un modo tra l'altro erano anche loro in promozione poi 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 ho preso dalla cassa delle maschere c'erano queste della royal beauty maschere che ti devi fare anche se ti credo che c'è una forma del animal l'animaletto qua c'è un cane che tra l'altro c'è scritto che fanno in scatta un selfie sono maschere in tessuto avevo già spiegato che io di solito queste le faccio due volte perché hanno tanto di quel siero praticamente questa è una maschera purificante prezzo sui 2 euro e poi ho preso anche una illuminante che c'è la forma delle mure se per caso alla forma nell'animaletto vi faccio quando la proverò un mini tutorial poi questi li ho visti nuovi e l'ho visti anche da dm la lulua non le ho mai viste queste maschere questa qua è con la vitamina c credo che sono francesi non lo so perché scrive in francese e il francese non è tanto il punto mio forte non ho capito che cosa vuol dire questa qua se qualcuna di voi lo sa che mi scriva che non sia perché qua c'è scritto formato il pratico e che te le puoi usare anche sull'aereo non lo so e quindi si la maschera è francese che ci scrive madre in corea però col passaggio in francia e poi ho preso anche questa l'anti in questa macucola gene marine ma ma incuriosito molto prezzo di di esse in offerta da cadiz in questo periodo è un euro 75 una da dm invece le ho viste a 2 99 quindi loro non hanno ancora la promozione siccome ho pensato che per il periodo natalizio c'è il periodo di dicembre per non fare sapete che io faccio le unghie normali con lo smalto però detto come mese di dicembre sarà un po incasinato non avrò sempre tempo di starmi a farmi le unghie perché queste dopo cinque giorni cominciano a sbeccarsi perché uno non è che mi metto sempre i guanti lava qualcosa fai pulizie così allora ho pensato di almeno per il mese di dicembre ma riprovare di nuovo alla semi permanente allora siccome non volevo andare neanche qui dalla estetista perché me la cavo anche qui allora ho detto vado a prendermi lo corrente siccome sapevo che la stra ha fatto un kit meraviglioso che anche per quelle non esperte è molto utile io non sono riuscita a trovarlo però mi sono presa l'occorrente separatamente comunque ora vi faccio vedere ho detto vado e mi pillo il kit la mia sfortuna che non c'era disponibile nel negozio e allora ho fatto tal modo con la ragazza che tanto è una mia conoscente la commessa abbiamo ricostruito tra virgolette kit tranne che nel kit c'è il buffer la lima quella in cartone credo che c'era anche un colore per fare il french se non ricordo male abbiamo ricostruito i pezzi per poter fare la semi allora c'è lo sgrassatore perché nel kit trovate questo lo sgrassatore poi io poi mi prenderò variante più grande il rimuver ma dimuver in generale la semi permanente quando lo faccio nelle anni passate lo eliminavo con anche con l'acetone si può fare oppure se avete la freza con una freza con una grana piccola riuscite a sete delicate a rimuovere lo smalto e poi l'occorrente base primer desidratante tutte qua perché le trovi separatamente queste qua c'erano anche nel kit però siccome il kit non era disponibile abbiamo ricostruito questo a parte ho preso anche due colori ma non della stra perché non mi sono piaciuti i loro colori c'erano un po questo tra l'altro anche anche un prezzo un po più basso 590 però io ho fatto l'ordine sul un sito che vengono roba professionale e che nel passato già avevo acquistato da loro e quindi ho preso un po di colori da lì ho preso della royal beauty che è questo questi due qua ora tanto questi si possono aprire questo credo che sia un bordeaux un rosso bordeaux quasi prugna è un rosso ciliegia che questo potrebbe andare bene per natale perché io le ho pensate in quel periodo e questo è uno chiaro che se per caso vuoi fare anche anche un rosino chiaro color carne tipo così su quel sito che ho preso ho fatto il ordine con un po di glitter giusto perché a me piace anche il glitter e per fare la ricostruzione con l'acrigel quello in tubetto e poi l'ultime cose ho preso i profumatori c'è l'olietto questo qua perché c'era in offerta anche lui questo è sweet home ho preso sandalo e eucalipto perché quando questo in genere vi lo raccomando se non avete allergie problematiche quando siete raffreddati oppure se volete respirare meglio ora che i termosifoni sono accesi di mettere qualche goccia nel umidificatore nella camera dove dormite l'eucalipto o la menta o il pino per farvi dormire meglio e respirare bene e poi l'essenza di rose e violetta che questo mi piace io che faccio qualche goccetta metto sempre nei di umidificatori per avere un odore gradevole in casa poi da tigota visto che mi hanno regalato la busta perché avevo un po di a prima di passare a tigota mi è stato omaggiato da cadis questa spugnetta è una maschera interessante che io non l'ho mai vista tra l'altro c'è scritto pronto premio vietato la vendita almeno che prima volta che mi regalano qualcosa tranne il libricino ma questa maschera una maschera per le peli molto maturi tipo dai 50 direi 60 in super lo userò anche io è una maschera ultra liftante nel senso che se abbiamo quelle rughe sempre in tessuto e fa parte di quella categoria di maschere che hanno praticamente un tra virgolette una bottiglia di siero cioè sono super super io ne avevo preso quella detox e poi una con l'acido aluronico ecco due volte se non tre volte sono riuscita a fare perché hanno tanto di quel siero che non vi immaginate e questo è stato un pensiero carino da parte loro poi dalla tigota per skin care ho preso della butteca italiana questo tonico a bava di lumaca se non so perché mi sono fissata ultimamente con la bava di lumaca con filtrato di bava di lumaca vi raccomando di dare un'occhiata alla allo stand di skin care specialmente per quelle con un'età da 40 al su un over 40 al su perché questo è un tonico buono se non vi fa senso a utilizzare i prodotti con la lumacchina è un prodotto vegan per questo l'ho acquistato perché il brand mi ha ispirato moltissimo a parte che dobbiamo sostenere i brand e anche le case piccole ma italiane ok non che io fossi pro o contra cioè contro la roba che viene dall'estero però viviamo in italia ci sono tantissime aziende come questa qua ad esempio che hanno dei prodotti sì con un packaging semplicissimo ma io non conosco il brand devo ancora provarlo vi farò una recensione o se quando parlerò nei prodotti finiti sapete che vi do sempre le recensioni sui prodotti però a me mi ha attirato moltissimo perché fatto in italia è un vegan costo nemmeno 4 e poi sempre dalla stessa dallo stesso brand ho preso anche due confezioni ho comprato perché perché voglio provare questa crema viso anti macchie anche un'altra fissazione mia queste macchie qua con estratto di giglio di mare io avevo visto qualche mese fa un documentario dove parlavano molto bene del giglio del mare della pianta e ho visto che ha delle proprietà molto buone che si utilizza anche nella cosmesi è fatto così 50 ml di prodotto e ovviamente per vedere sulle macchie l'effetto per come la vedo io e dalla mia propria esperienza bisogna utilizzare minimo due tre mesi nel caso delle macchie cutanee macchie o segni di acne o queste cose qua le macchie esistono da parte del sole o problematiche ormonali o alcune donne che escono da una gravidanza perché a volte in gravidanza gli ormoni impazziscono e la pelle si macchia e vi assicuro che se non utilizzi protesi di questo genere non ti vanno via io un po per il sole ma un problema ormonale e quindi non è facile a farle andar via perciò vi consiglio di utilizzare minimo due tre mesi per poter vedere l'efficacia perché in caso di questo genere di problematica dovete dare tempo nel senso che non spariscono o non diminuiscono in un lampo il prodotto non fa miracoli subito bisogna lavorarci parecchio sopra il problema poi da un altro brand sempre vegan e low cost che si chiama ecos che nemmeno questo non lo conosco sempre dall'antico da ho preso un tonico riequilibrante al caffè verde vediamo come si comporterà anche lui e poi una crema è praticamente una crema contorno chi anti age sempre a caffè mia a tratto perché c'è scritto con acido aluronico alto e basso peso molecolare la stessa cosa anche lui è un prodotto vegan anche lui origine italiana quindi mi raccomando sosteniamo le piccole aziende poi due maschere che praticamente è una sola perché ne ho prese due purificante allo zenzero dalla royal beauty non le ho mai viste queste qua sono quelle in crema che metti sta in posa e poi devi di sciacquare e alla cassa c'erano questo genere di agendine che mi hanno attirato moltissimo i colori hanno di varie colorazioni che costano con 2 euro qualcosa ma che non eri obbligato ad acquistare però se lo acquisti la causa è buona perché se voi notate sulla coperta dell'agenda c'è dei segni tipo un rilievo cosa sono è una scritta in braille 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 credo in braille che cos'è tra l'altro anche il resto del dell'agenda se vedete braille è un metodo di comunicazione e di lettura alle persone non vedenti e quindi una quota dell'acquisto del calendario del calendario del calendario dell'agendina va a questa associazione che si occupa con questa cosa qui mi è sembrato un un gesto si piccolo che non mi ho spiegato non costa tantissimo però almeno va in una causa buona tanto per 2024 non abbiamo ancora agenda perciò questa è una cosa utile e voilà abbiamo finito questo è tutto questo è utile perché lo infili lo butti in borsa e arrivederci ciao ne sosteniamo anche questa roba anche se questa mi è stata omaggiata ma potremmo possiamo anche acquistarla che funziona bene quando sei in giro perché evitiamo a comprare come oggi la plastica voilà ok bellezza e se siete di passaggio e vi piace stare qua sul canale pollice in su e iscrivetevi rimanete con esse perché ogni tanto mi vedrete qui con voi invece per chi è nuova benvenuta nel mio mondo nella mia community vi mando un bacio grosso e vi ringrazio per la visita e vi aspetto sempre qui ciao ciao